Il corso di Marketing Business to Business Sono Luciano Spagnoli e sono il docente del corso di Marketing Business to Business. È un corso che ci aiuta a riflettere, sistematizzare quelle che sono le nostre caratteristiche, il nostro modello organizzativo e trovare spunti per migliorare la nostra relazione azienda-mercato. È un percorso mosaico, inizia con una prima panoramica che fornisce metodi che consentono di inquadrare quelli che sono processi, prodotti, servizi, insomma quegli elementi che caratterizzano la nostra value proposition e poi progressivamente fornisce tutta una serie di strumenti che hanno una declinazione fortemente operativa.